Salve a tutti. Mi presento. Il mio nome è Abicipredator. Questo è il mio primo video sul griffing in Minecraft. È solo una prova per iniziare la mia carriera qui su YouTube e spero di riuscire, se avrò ancora del tempo, a farne degli altri nel caso la cosa vi aggradi. Per usare YouTube a questo scopo ho riciclato un vecchio canale che avevo dedicato a un altro progetto, in quanto per crearne un uovo coi bastardi di Google mi chiedono il numero di cellulare. E non voglio far tracciare ogni cazzo di mio movimento a questi stronzi. Ora bando alle ciance e vediamo i dettagli della mia prima griffata video. Il titolo di questa deriva dal fatto che questo server era già condannato alla rovina prima ancora che fossero completate le sue costruzioni. Perché mi chiedete? Semplice. Sullo sfondo potete vedere il mio inventario che mi sono creato senza l'ausilio di mod alcune ore prima di scatenare l'inferno. Il fatto di non usare mod è uno dei miei principi fondamentali. Non mi piace barare. Il server all'epoca era occupato da una dozzina di persone dedicate a preparare il palcoscenico per il mio arrivo. Tra tutti gli oggetti che mi sono creato ho scelto di usare il secchio di lava. Ora che vi ho tediato abbastanza con le presentazioni lo spettacolo può iniziare. Vi consiglio di leggere la chat per farvi grasse risate con le imprecazioni del proprietario delle strutture distrutte. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.